L'attuale contesto internazionale è la situazione dei cristiani e delle altre minoranze in Medio Oriente. Sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Ceca. Durante i cordiali colloqui, svoltisi nella ricorrenza del 25esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l'allora Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, è stata confermata la Comune volontà di rafforzare i buoni rapporti bilaterali, nonché di concludere le trattative in vista della stipula di un accordo bilaterale. La Sala Stampa Vaticana rende noto inoltre che è stato espresso il desiderio di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Chiesa e Stato nei settori di comune interesse, in particolare nell'ambito culturale, educativo e sociale, a beneficio dell'intera nazione.